In questa giornata i soci sono impegnati proprio per dare una mano alla raccolta di cibarie da distribuire alle famiglie bisognose. Questa iniziativa si ripete negli anni, sponsorizzata da San Vincenzo e con la partecipazione dei soci coppi della sezione soci. Quante persone avete coinvolto in questa giornata? In questa giornata noi complessivamente siamo 19 consiglieri e 30 soci attivi. Diciamo che in questa giornata abbiamo impegnato circa 20-25 persone, alcune sono venute mezza giornata e altre siamo tutto il giorno che siamo presenti.